Un importante quantitativo di capi d'abbigliamento contraffatti e recanti falso made in Italy sono stati sequestrati dai finanziari del Comando Provinciale di Catania a una ditta individuale di Mr. Bianco, gestita da un cittadino di origine cinese che fungeva da fornitore, avventitori e al dettaglio operanti nella provincia Etnea. L'attività info-investigativa svolta per contrastare le condotte illecite di contraffazione di marchi e brevetti, di immissione in commercio di prodotti non sicuri e di falsa o fallace indicazione di origine o provenienza delle merci, ha permesso ai finanzieri della compagnia di Paternò di risalire al grossista asiatico. Dalla successiva ispezione effettuata all'interno del capannone sede dell'azienda in questione, i militari hanno scoperto riposte in scatole nascoste sotto altra merce, magliette e tute contraffatte di note griff, nonché la presenza nel capannone di numerosissimi capi di abbigliamento attestanti falso made in Italy. Tutta merce sottoposta a sequestro, nello specifico sono stati sequestrati 5.000 articoli di abbigliamento contraffatti di note griff e 13.000 capi aventi falsa attestazione del made in Italy.